ciao a tutti amici di seblogappsblogspot.com finalmente ci ritroviamo per un altro tutorial sull'uso di App Inventor, mi è stato chiesto come si può leggere un file XML e oggi vedremo una semplice applicazione che farà proprio questo, allora partiamo un attimo con il vedere cos'è il file XML e quale sarà il file XML che vogliamo importare, questo è il nostro file XML che viene dalle API di Google per quanto riguarda il meteo, come vedete inserendo questa stringa sul nostro browser ci vengono riportate le previsioni del tempo in questo caso su Milano in formato XML come vedete l'XML è formato da tanti tag, ognuno di questi tag ha un valore e qui dentro abbiamo i valori delle previsioni del tempo in questo caso ad esempio guardiamo noi cosa possiamo voler estrarre, non so, magari la città che abbiamo inserito poi le condizioni, le condizioni meteo e la temperatura in gradi Celsius vedremo poi dopo come fare ovviamente possiamo applicare le stesse cose che vedrete oggi anche per altri file XML il procedimento sarà alquanto simile andiamo alla nostra pagina di App Inventor creiamo un nuovo progetto che lo chiamiamo questa volta Tutorial Meteo diamo l'ok come sempre partiamo disegnando gli elementi del Design Editor cambiamo il nome alla nostra applicazione vogliamo mettere un text box dove inseriremo il nome della località che vogliamo cercare le previsioni del tempo e poi un pulsante che darà l'invio all'aggiornamento dei dati dopo di che vogliamo portare i risultati, visualizzare i risultati quindi metteremo un table arrangement dopo vediamo un attimo perché questa table deve essere su due colonne e una sola riga la mettiamo, poi semmai la sistemiamo comunque per ora la mettiamo in Fill Parent e mettiamo nella prima colonna mettiamo un'immagine mentre nella seconda inizieremo a mettere tante label che sono i valori anzi, prima mettiamo un vertical arrangement all'interno del nostro table arrangement e iniziamo a mettere delle label iniziamo anche forse a rinominarle così iniziate a capire un po' di più allora questa la chiamiamo città e il nome della label sarà lb underscore città qua è meglio non mettere gli accenti poi un'altra label al di sotto che chiameremo, allora daremo come valore temperatura e la label sarà lb underscore temp poi un'altra label abbiamo quasi finito non vi preoccupate che si chiamerà condizione e la chiamiamo indovinate un po' lb condizione lb sta per label ovviamente ultima label poi abbiamo finito giusto per fare un esempio un po' carino umidità e la label la chiamiamo lb umidità anche questa volta senza l'accento poi l'immagine che abbiamo messo vi spiegherò anche questa dopo a cosa serve chiamiamo image condizione table arrangement e vertical arrangement non serve rinominarlo questo bottone vogliamo chiamarlo bn aggiorna e questo textbox lo chiamiamo tb città ok tb città ovviamente come int inserisci la città e come scusate il button 1 il testo sarà aggiorna ok fatto il primo passo manca ancora un elemento fondamentale per questa nostra applicazione che è il componente web quindi rivedremo un'ulteriore volta il componente web cosa farà e cosa ci servirà la parte di design editor se non sbaglio l'abbiamo finita ora quindi passiamo al blocks editor allora nel blocks editor ci tenevo a spiegarvi principalmente quella che è la parte di si dice in gergo tecnico parsing del file xml perché è anche la parte più difficile come vedremo fra poco allora partiamo con il codice per il recupero dei dati quindi nel momento in cui noi schiacceremo il bottone aggiorna click il componente web 1 imposteremo come valore quindi set web 1 url scusate to allora sarà un testo come abbiamo visto il testo deve essere questo quindi lo prendiamo però solo fino all'uguale e lo inseriamo qua e poi cosa manca la parte rimanente del testo sarà una join perché comunque la stringa dell'url deve essere tutta intera e sarà il valore che abbiamo preso dalla textbox città quindi il valore di tb città quindi cerchiamo qua tb città text lo infiliamo qui si collega automaticamente lo mettiamo dentro e poi ovviamente la web ha bisogno di essere chiamata con il comando col web1 get quindi una volta che avremo fatto questo avremo praticamente diciamo all'interno della nostra applicazione avremo questo tutto questo questo testo adesso questo testo va interpretato perché altrimenti così com'è possiamo farci ben poco allora andiamo nel modo web1 got text ovvero quando ho una risposta dal web soddisfacente avrò in response content avrò praticamente una stringa che conterrà appunto quello che abbiamo visto il nostro file xml ora praticamente noi qui dentro vogliamo settare non so la label città a quello che leggo qui dentro city data lombardi la label è temperatura a questo valore qua la label umidità a quest'altro valore e così via quindi cosa dobbiamo fare allora introduciamo anche il concetto di funzioni quindi definiremo una nuova scusate procedura praticamente la procedura non è altro che un insieme di diciamo di operazioni che deve compiere il nostro codice gli daremo degli argomenti in ingresso e ci ritornerà un valore in uscita quindi gli argomenti in ingresso saranno saranno due allora built-in definition sono due nomi allora intanto li mettiamo qua vedete che dopo che ne mettiamo uno mi viene lo spazio per il seguente allora li chiamiamo così il primo sarà full xml che sarebbe il nome del praticamente la stringa che contiene tutto l'xml e il secondo open tag open tag allora abbiamo già detto prima forse che in gergo tecnico questi qua si chiamano appunto tag questo è il tag humidity data questo è il tag icon data wine condition data eccetera eccetera anzi scusate il data non c'entra ma comunque è wind condition icon eccetera eccetera questo è quello che si chiama tag in un file xml ora ci serve una stringa vuota quindi definiamo una variabile possiamo metterla qua la chiamiamo temp string perché comunque lavoreremo su un file di tipo stringa e la inizializziamo a questo modo vuota quindi prima cosa da fare allora qua dentro praticamente noi lavoriamo con questa stringa temporanea quindi temp string la mettiamo uguale al valore di full xml così full xml non andiamo a toccarlo poi lavoriamo sempre sulla nostra definizione di temp string per estrarre allora cosa deve fare questa ecco adesso diamoci anche un nome la chiamiamo xml extract extract spero di averlo scritto giusto praticamente noi vogliamo che se gli do come open tag diciamo per esempio questo valore temp si data questa questa funzione questa procedura mi risulti mi dia indietro il valore 29 ok quindi noi passeremo tutto l'xml che è questa pagina il tag di apertura che è quello ancora una volta andiamo a vederlo qua sarà questo temp see equal data e quindi dobbiamo praticamente lavorare su questo xml intero per estrarre mano a mano le varie stringhe allora andiamo come temp string adesso dobbiamo usare le funzioni delle stringhe che quindi le troviamo sotto il testo allora split at first praticamente split at first mi prende tutto un blocco di testo quindi in questo caso mi prende tutto questo blocco di testo qua e si ferma al prima risultato che trova quindi in questo caso non lo so mettiamo caso humidity data quindi sarà così la nostra stringa di ritorno avrà due parti la parte 1 è quella che viene prima del tag che ho selezionato la parte 2 sarà quella da qui in poi quindi capite che noi quello che vorremmo fare sarà splittare la stringa allora in un primo caso prendiamo questo la parte 1 e la parte 2 la parte 1 non ci interessa più ci interesserà solo la parte 2 poi esamineremo la parte 2 la parte 2 sarà diciamo la parte interessante per noi sarà quella dove praticamente ho il valore all'interno delle virgolette quindi umidità 2.42% sembra un po' bassina per oggi che si sta morendo e quindi in questo caso lo split verrà fatto pressa poco qua a questo punto e quindi vorremmo prendere questa volta non la parte 1 scusate proprio la parte 1 e lascia stare la parte 2 spero di essermi spiegato abbastanza ora andiamo a vedere quindi split at first praticamente cosa dobbiamo cercare sempre temp string che è praticamente ancora tutto il nostro xml e vado a cercare il valore di open tag ovvero splitto al mio valore open tag poi io ricopio per fare un po' più veloce praticamente abbiamo detto che vogliamo ottenere solo la seconda parte di quello che abbiamo preso quindi sempre le funzioni questa volta per le liste quindi andiamo a prendere select list item la lista sarà sempre il nostro temp string e l'indice sarà 2 perché vogliamo la seconda parte quindi abbiamo buttato via diciamo la prima parte ora devo andare alla ricerca di nuovo split alla prima occorrenza di ma non sarà più open tag quindi open tag lo posso buttare ma sarà come avete visto tutte quante finiscono con le virgolette scusate lo slash e la parentesi chiusa parentesi ultima cosa da fare è tenere la prima parte di questa nuova stringa che abbiamo splittato quindi sarà sempre select list item ma questa volta il numero ovvero quale pezzo della lista vogliamo ottenere sarà 1 cosa dobbiamo ritornare alla nostra funzione ovviamente dobbiamo ritornare temp string perché praticamente dentro temp string avremo estratto solamente in questo caso questo valore testuale quindi come avete visto di tutto il test xml con questa procedura riusciamo ad estrarre un solo tag c'è un problema qualcuno di voi se ne sarà probabilmente accorto se ci sono più tag uguali questo prende solo il primo quindi che ne so per esempio il loadata mi viene in mente questo che lo vedo qua se io faccio una ricerca su loadata mi ritornerà solo questo è possibile comunque con dei lavori extra su questa procedura fare in modo che selezioni magari tutti loadata e dopo di che prenda solo il primo di essi o il secondo come volete comunque questo esempio altrimenti diventa veramente troppo lungo lo finiamo così quindi a questo punto la nostra procedura xml extract è pronta dobbiamo settare le varie textbox quindi lb città text sarà praticamente un allora scusate perché poi mi servirà più spazio allora una join perché vogliamo anche scriverci una cosa carina davanti quindi sarà città due punti spazio e poi cos'è che vogliamo estrarre vogliamo estrarre appunto il valore che abbiamo qua dentro il valore che abbiamo in city data quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo chiamare la nostra funzione che è xml extract full xml sarà questo perché come abbiamo detto quando prende il testo ritorna tutto su response content quindi in pratica lo troviamo ancora in my definition e il tag che dobbiamo cercare è questo qua allora andiamo a prenderlo da qua aperta parentesi city data uguale virgolette e lo incollo qua ok quindi questo qua mi setterà le città text come città e mi prende quello che c'è subito dopo city data come abbiamo visto prenderà subito quello che c'è fino a city data fino alle virgolette successive rifacciamo praticamente la stessa cosa ora io blocco un attimo perché se no il filmato viene troppo lungo e le compilo poi comunque avrete i sorgenti ci rivediamo tra un attimo eccoci qua abbiamo quasi finito vi ricordate che avevamo messo anche un'immagine ecco qua questa immagine noi vogliamo che sia l'immagine relativa alle condizioni del tempo come vedete qui ho già praticamente il path per questa immagine se io provo a aprire questa immagine guardiamo un attimo solo allora così mi darà errore devo metterci davanti anche www.ugol.com slash eg ecco qua l'immagine che vogliamo visualizzare quindi io devo costruire una string praticamente con questo valore diciamo che poi il valore qua cambierà a seconda delle condizioni meteorologiche torno quindi sul blocks editor e metto che l'immagine della condizione set image condizione picture to allora anche qui è di nuovo praticamente una join però sarà un po' diversa un po' diverso il test iniziale perché non sarà più questo ma sarà questo qua allora un attimo solo ecco quindi l'indirizzo di google e poi estrarremo scusate il valore che c'è su icon data quindi vado ad inserire questo tag per riuscire ad estrarre quel valore allora un paio di precisazioni prima di aprire l'emulatore scusate ma qua ho sbagliato il test da cercare è la slash in avanti e non il backslash come avevo indicato poi c'è un'altra piccola particolarità allora se noi lanciamo su chrome questa api vedete che su humidity data ci ritorna umidità che era quello che avevamo cercato poi nella nostra stringa però andando a debuggare cosa ci torna con response content probabilmente perché il locale dell'emulatore è settato su inglese o qualcosa del genere se voi andate a vedere qua humidity data scrive humidity non scrive umidità e quindi questo praticamente ci porterebbe ad avere un errore in fase di runtime quindi per correggerlo dobbiamo filtrare sulla stringa che è humidity data uguale humidity due punti ora posso lanciare il nostro emulatore ovvero io l'ho anche già lanciato cliccare su aggiorna e vedere che praticamente mi ha trovato cioè ha estratto quello che volevamo estrarre come previsioni del tempo proviamo a mettere Roma per esempio come vedete ci sono 33 gradi e vedete anche la condizione qua la riporta in inglese quindi clear mentre qui la riporterebbe in italiano a voi vedere se magari col vostro emulatore o col vostro telefono riporta correttamente i dati dalla versione italiana che sarebbe anche più carina andiamo com'è che faccio a farvi vedere tutto quanto ecco qua è venuto tutto quanto mi sembra di avervi detto tutto quindi come si fa un parsing molto basilare di un file XML con questa cosa proprio primitiva che probabilmente può essere ottimizzata tantissimo ma io magari non ne sono capace o non ne ho voglia diciamo che per oggi è tutto anche qui potete stare a sbizzarrirvi sulla grafica su tutto quello che volete come avete già imparato e soprattutto c'è un errore abbastanza grave che se io non inserisco la città e premo aggiorna l'applicazione mi sa che crescia ecco qua quindi eventualmente sta a voi mettere una condizione if then else con la verifica che ci sia scritto qualcosa dentro il campo città come al solito se vi è piaciuto il tutorial potete venire a trovarmi sul mio blog potete sicuramente scrivere delle domande dei commenti dei suggerimenti quello che volete anche degli insulti li accetto anche quelli